e ciao a tutti amici di da vinci io sono franco versa e oggi vedremo come creare il logo che si scompone con le scintille l'avevo fatto con da vincere sol l'avete visto poco fa sul canale e ora lo andremo a fare con un altro logo per far vedere la flessibilità di questo effetto che si può applicare anche sulle scritte o su altri oggetti allora andiamo a creare e andiamo all'interno di fusion voi sapete benissimo che per avere la stessa risoluzione in uscita dobbiamo collegare un background al media out e andiamo a inserire ad esempio una trasparenza perché questo logo vorremmo metterlo sopra il nostro filmato vedete se andate su image potete notare che la risoluzione è 1920x1080 attenzione avere sempre l'auto resolution attivo bene di default lo è adesso andiamo a prendere il nostro logo apro il media pool e trascino questo logo che è semplicemente un logo png quindi vedete è trasparente vedete come questo logo abbia una forma quadrata infatti è 4167 x 4167 lo trasciniamo così in ten line e come vediamo è molto grande allora qui potremmo ad esempio fare un resize se vogliamo ridimensionarlo oppure potremmo usare un transform per lasciare la stessa risoluzione e ridimensionato io uso un resize così ridurrò anche la quantità di memoria utilizzata inserendo resize ovviamente dobbiamo impostare qui la risoluzione che vogliamo siccome è quadrato potremmo portarlo 1080 x 1080 per esempio ecco se vuoi prendete un logo già coerente non serve fare il resize ora dovremo tenere di riferimento questa dimensione del resize anche per le ulteriori elaborazioni che andiamo a fare cosa facciamo andiamo a crearci una maschera che andrà a scomporre il nostro logo per fare questa maschera è molto semplice utilizziamo un ellisse che troviamo qua andiamo a visualizzarlo premendo 1 ecco la nostra visse e come vedete questa visse possiamo rimpicciolirla ingrandirla eccetera per farlo come avete visto ho utilizzo questo arco diagonale che va a muovere entrambe le direzioni è la cosa più veloce se andiamo utilizzare i controlli with e ai questi sono separati quindi per unirli un rapporto a zero potremmo utilizzare un expression abituatevi a queste cose molto semplici possiamo battere uguale qua dentro per far apparire l'espression vedete ora metterà questo più dove andremo a linkare l'altro valore oppure ora la cancello un con remove expression posso cliccare tasto destro sul nome e fare expression sono due operazioni equivalenti ora prendiamo tasto sinistro del mouse sul più e lo trasciniamo sull'altro valore quindi vedete che ora altezza è uguale a larghezza quindi trascinando larghezza abbiamo semplicemente agganciato questi due valori sappiate che quando noi muoviamo così questo valore è comunque svincolato il centro che possiamo spostare e ovviamente spostandolo graficamente sul viewer da qua equivale a spostare i valori x e y da qui quindi possiamo portare questo esempio fuori del nostro logo e possiamo creargli una animazione come facciamo lo portiamo a zero ricordatevi di trovarvi a inizio della time ruler questa qui dove abbiamo i tempi solitamente espressi in frame andiamo a inserire un keyframe poi ci spostiamo questo dipenderà da quanto tempo vogliamo che questa animazione si propaghi sul nostro logo io avete visto faccio 100 frame e vado ad allargare vado allargare tutto fino a fuori bene ora avremo questo se torno indietro metto play avremo questa maschera che passa ovviamente questa maschera non la vediamo perché perché il nodo non è collegato a nulla siccome non vorremmo una maschera così come l'abbiamo vista lineare andiamo a creare un disturbo su questa maschera per creare un disturbo selezionate il nodo ellipse premiamo shift e barra speziatrice e cerchiamo displace questo qui non il 3d lo andiamo a unire attenzione non entriamo sulla maschera lo sganciamo dobbiamo entrare sul giallo per farlo agevolmente perché può essere che lo collegate qua e ve lo ritrovate su quello celeste potete trascinare con il tasto destro e quando rilasciate vi chiede dove inserirlo noi lo inseriremo su input che è giallo va bene ora visualizziamo questo display ad esempio qui premendo sul nodo e premendo 2 lo vedremo qua andiamo a dargli anche con cosa deve creare questo display cioè questa distorsione e l'andiamo a creare con un fast noise con il quale entriamo sul verde allora andiamo a fare alcuni settaggi sul display che sono quello di mettere x e y poi abbassiamo x offset a 0 e y offset a 0 andiamo a alzare un po x refresh e y refresh vedete che non è più ovale ma andiamo a agire sul fast noise premiamo 1 e andiamo a mettere i dettagli al massimo il contrasto e vedete che ora è molto irregolare questo disturbo lo possiamo regolare anche con lo scale e se mettiamo play da 0 vediamo che questa maschera ora vedete come si muove frastagliata avete visto questo dipenderà dai valori impostati sul display in x vedete ecco qua il valore di x che è aumentato e y ovviamente può essere costante o potrebbe essere anche animati anche questi valori durante il movimento inoltre se volete anche un movimento irregolare qui potete sul fast noise aggiungere un silate che va andrà a muovere come vedete il rumore e questo creerà questa macchia così irregolare utilizzeremo questa macchia per andare a tagliare il nostro logo per far questo useremo un nodo bright and contrast che questo qui lo trasciniamo qui lo rilasciamo quando è azzurro così lo agganciamo oppure potevamo anche richiamarlo con shift barra spaziatrice agganciato al margin di fronte e trasciniamo la nostra maschera creata sulla maschera del bright and contrast andiamo a visualizzare un attimo l'uscita vedete che tutto normale sul bright and contrast andremo a cambiare sul setting questi due valori andremo ad attivarli quindi apply mask inverted cioè invertirà la nostra maschera quindi clicchiamo e multiply by mask voilà adesso andiamo avanti e cosa vediamo vediamo che la nostra maschera che avanza va a mangiare il nostro logo avete capito cosa abbiamo creato questa maschera irregolare che sta distruggendo il nostro logo ora andremo a creare anche un bordo su questa maschera in maniera da poter simulare ad esempio una zona luminosa come lo facciamo questo lo teniamo prendendo questi tre nodi quindi tasto sinistro del mouse andiamo a sottolineare evidenziarli tutti facciamo ctrl c per copiarli e poi facciamo ctrl shift e v per incollarli questa operazione che abbiamo fatto di incollarli in questa maniera con ctrl shift v farà apparire un'istanza che è questa qui vedete che abbiamo gli stessi nodi quindi un fast noise un displace e un'istanza dell'ellisse infatti è scritta ellisse qui però sono legati da quei tratti verdi cosa vuol dire questi nodi sono uguali identici agli altri andiamo ad esempio sull'istanza questa qui a premere 1 e vediamo che abbiamo la stessa maschera che si allarga e se andiamo qua notiamo una cosa un po particolare andiamo sempre sull'ellisse che quella dove dovremmo cambiare dei valori vedete che abbiamo tutti questi bordi verdi perché l'istanza copia esattamente dal nodo di origine tutti i parametri quindi se cambiamo un valore qui verrà cambiato anche sull'istanza ma noi adesso andremo manualmente a sganciare due parametri uno è la dimensione del bordo quindi cliccando su border width tasto destro andiamo a fare dei stands questo ci permette di muovere questo valore senza muovere l'originale e poi andiamo a sganciare un'altra cosa che è il solid quindi su solid premiamo tasto destro dei stands questo ci permette di non fare solido questo valore quindi togliamo e cosa ci troviamo come vedete non abbiamo più la maschera piena ma solo il bordo della maschera il cui spessore va regolato come avete visto dalla dimensione del bordo andiamo a vedere cosa succede mettendo in play da zero abbiamo la stessa maschera solo con il bordo ok proviamo andare così a collegarla qua sotto e vediamo cosa succede come vedete avremo semplicemente la nostra maschera che avanza su tutto lo schermo e va a cancellare il nostro logo però noi non vogliamo questo noi vogliamo che si veda solo all'interno del logo e non fuori dal logo per mascherare la nostra forma all'interno del logo usiamo un altro brand incontra sull'uscita di questo nodo distanza quindi selezioniamo questo shift per la spaziatrice cercate brand incontra se lo aggiungete oppure avete visto potete tirarlo giù da qua sull'uscita di questa maschera andiamo a inviare il nostro logo quindi da qua andiamo dentro qui e qua ovviamente dobbiamo andare sul setting e andare a applicare la maschera multiply vedete cosa succede ora abbiamo l'avanzamento di questo solo all'interno del nostro logo vedete che simpatico avete visto questa tecnica potete usarla anche su script e altre cose e adesso vediamo di migliorare tutto questo ora vorremmo colorare questo taglio della maschera per farlo prendiamo un background e lo inseriamo qui questo brand incontra lo usiamo come maschera per il background quindi lo inviamo sulla maschera e l'uscita ce la rimandiamo di nuovo sul merge vedete che ora appare nero e da qua possiamo assegnare qualsiasi colore il colore può essere solido quindi avere tutto lo stesso colore oppure potremmo usare anche delle sfumature intanto lo facciamo solido e andiamo a scegliere per esempio un arancione ora vedete che abbiamo questo bel contorno arancione e ecco qua l'effetto che va a cancellare il nostro personaggio ovviamente avete capito che se io vado a posizionare la maschera iniziale la vado a posizionare per esempio più sotto vedete io posso spostare in diretta e decidere da dove deve cancellarsi il mio logo ad esempio qua lateralmente è molto carino eccolo qua che procede così dal basso verso l'alto avete visto come una modifica può cambiare tutto adesso andiamo a rendere luminosa questa riga arancione useremo tre passaggi del soft glow quindi all'uscita del background qui possiamo premere background shift barra spaziatrice e cercate soft glow lo inseriamo eccolo qua vediamo già l'effetto ma andiamo a abbassare l'effetto glow size lo portiamo più basso perché è più carino sommare più nodi così quindi ne aggiungiamo aggiungere un altro shift barra spaziatrice e premiamo invio perché abbiamo già selezionato soft glow e qui andiamo appena appena alzarlo un po di più rispetto a prima inseriamo un altro soft glow e lo andiamo alzare un po di più possiamo regolare anche i vari gain di e i threshold per avere un effetto che va come vedete ecco più via via aumentando e in questo caso potremo ad esempio restringere sulla nostra ellisse un pochino il valore del bordo un'altra miglioria che possiamo fare è quella di andare sull'ellisse originale così tanto l'istanza prenderà automaticamente e regolare un soft edge vedete come regoliamo possiamo fare più morbido o più duro se ammorbidite vedete che avete più un effetto quasi di fiamma si ammorbidisce tutto non è così rigido come era prima vedete quanto la velocità anche conti sull'effetto farlo più veloce e più lento e molto più lento cambia anche la percezione dell'effetto stesso bene ora ho risistemato un attimino i nodi voglio creare una specie di nuvola colorata nell'aria che viene cancellata per far questo andate dopo background dopo il merge sul bright and contrast e qua sotto creiamo un nodo trail quindi shift bar spaziatrice trail inseriamo così questo qui ci servirà per creare un effetto blur vi faccio vedere dal bright and contrast scendiamo giù sul giallo visualizziamo questo nodo premendo 1 e come vedete non vediamo assolutamente nulla andiamo sul gain e lo spostiamo a 0.9 vedrete la figura che si scurirà leggermente e poi sul blur che troviamo qui mettiamo 3.0 ora vedrete questa parte qua che è sfumata e sfocata mettiamo in play vedete vedete come è sfumato e con blur anche e più lento rispetto al nostro logo vedete che qua il logo è già mangiato qui abbiamo ancora questo effetto che sta avanzando perfetto questo perché ci servirà adesso per creare dei colori che vanno pian pianino seguendo questo bordo qua per farlo infatti ora uniamo due fast noise quindi il primo fast noise lo visualizziamo facciamo facciamo una scala un po più piccola e qua scegliete un contrasto un dettaglio e su colori andiamo a scegliere un colore qui sul bianco perché questo visibile magari celestino poi tutte queste cose qua le sceglierete in base un po anche ai vostri gusti potete provare a fare altre scelte copiamo questo ctrl c e facciamo ctrl v come vedete cosa succede si viene creata una copia unita da un merge visualizziamo questo merge premendo 1 e il secondo fast noise gli cambiamo il colore e lo mettiamo più violaccio inoltre sul noise spostiamo il sit e spostiamo un po anche la scala andiamo a ottenere vedete questo effetto così spostiamo il sit ray che si muova e anche sull'altro sit ray che si muova quindi abbiamo questa nuvola che vedete che si sta muovendo un po ora sempre utilizzando il bright and contrast quindi andiamo sul merge shift barra spaziatrice bright and contrast e mettiamo il trail possiamo spostarci tutto il blocco di nodi qui spostiamo il trail giù come maschera e sul bright and contrast e qua andiamo a fare e se mettiamo in play vedete che pian pianino vanno a mangiarsi come la maschera ora andremo a unire questi due segnali tornando su con questo segnale quindi possiamo anche spostare un po più laterali ritorniamo qua su in alto mettendo qui verrà un merge e vedete che sta unendo le due cose se torno indietro ora vedete che questo segnale è sovrapposto e che quando si cancella si vede ancora qui noi ora dobbiamo andarlo a cancellare da questa parte dobbiamo trovare il nodo displays il primo dei tre nodi che poi abbiamo creato distanza e trascinarlo sulla maschera del merge spero non vi perdiate guardate cosa succede abbiamo il nostro logo pulito ecco qua poi mettiamo in play e man mano la maschera avanza farà la riga gialla e come vedete la nuvola del nostro trail che pian piano va a cancellarsi dopo tutto questo in velocità vedete è simpatico ora diciamo sta calcolando tanto che questa cosa un po sta pesantendo se andate qua e tasto destro togliete high quality tasto destro togliete motion blur per il momento che non vi serviranno renderete un attimino più la vita facile a fusion ecco guardate che simpatico adesso cosa andremo a fare vedete come la scelta dei colori è molto importante perché potrete simulare un fumo quindi assegnare dei colori magari più anche seriosi adesso andremo a creare delle scintille che partono da questo bordo giallo e per farlo andremo a utilizzare del particellare quindi per farlo prendiamo un p emitter e un p render che verrà agganciato se avete il nodo selezionato stando sul p render andate a mettere 2d perché abbiamo bisogno di 2d visualizziamo e vedremo altro che questi puntini come vedete qui che sono le particelle che stanno venendo emesse da questa parte circolare qui quindi invece di avere questa regione andiamo sul p emitter e se andate su regione qui vedete era una sfera adesso diventato un cerchio perché siamo in 2d cliccate e andate a selezionare bitmap ora si è attivato questo ingresso e su questo ingresso andiamo a inviare questo background andiamo a visualizzarlo vedete cioè la riga che procede per cancellare lo andiamo a inviare qui io adesso questo lo faccio anche un po' più chiaro perché non mi piace vedete ecco se lo faccio più più bianco abbiamo un effetto un po' più luminoso eccolo qua quindi se ora andiamo a visualizzare le particelle vedete che queste particelle sono già più regolari bisogna semplicemente andare a aumentare e regolare quindi torniamo sull'emettitore quindi andiamo su controlli e sull'emettitore andiamo a mettere 100 ecco vedete che questi puntini sono aumentati poi apriamo velocity e andiamo a inserire come valore come 0.05 e vedete ora sono più vicine se mettiamo in play possiamo vedere ecco qua le particelle che seguono di più la nostra riga che è andata a crearsi andiamo a cambiare anche la velocità di variazione assegnando un po' di variazione e andiamo inserire sull'angolo 360 e sul angle z cioè l'angolo z 360 e in questa maniera abbiamo cambiato l'angolo delle particelle come vengono emesse che vengono emesse un po' tutto attorno come avete visto bene ho impostato la variazione della velocità 0.1 che mi sembra migliore adesso andiamo a inserire un directional force dopo l'emettitore quindi selezioniamo emettitore shift barra spaziatrice e scegliamo directional force questo è già settato a meno 90 e simula la gravità e come vedete le particelle si creano e cadono verso il basso ora è molto difficile vedere queste particelle infatti andremo a modificarne la forma quindi ora andremo a crearci la forma della particella per far questo andiamo sull'emettitore e su style invece di punto perché un puntino andiamo a segnare bitmap anche qui e adesso si aspetta l'emettitore un'immagine in ingresso che andiamo a creare con un background visualizziamo il background questo è molto grande perché ha la stessa risoluzione del timeline lo riduciamo a un 100% pixel per far questo andiamo su image togliete l'auto resolution e qui scriviamo 100% come vedete è diventato un quadratino molto piccolo su colore lo andiamo a impostare su bianco e adesso gli diamo una forma utilizzando la maschera rettangolare facciamo così andiamo un po zoomando con contro la rotellina al suo interno e la maschera rettangolare la facciamo molto bassa e lunga così vogliamo creare una riga per sfumarla ai lati prendiamo un'altra maschera la uniamo vedete che vediamo la somma delle due maschere andando su questa prima facciamo inverti e summerge facciamo sottrai in questa maniera vedete che abbiamo questa rio così che si ferma alle dimensioni del nostro quadrato ora andiamo su soft edge e trasciniamolo vedete cosa succede andiamo a sfumare i bordi avremo una specie di scintilla perché qua parte sfumata va allargarsi e sfuma quindi questa la diamo in ingresso alla nostra emettitore e se andiamo a vedere il render e mettiamo in play vedete che avremo queste che sono della stessa forma siccome è molto piccola andiamo sull'emettitore e andiamo su size control quindi su size qui scriviamo 0.2 vedete che è più grande e su size to velocity mettiamo 0.1 questo cambierà come vedete la dimensione alla velocità quindi quando sono veloci si ingrandirà mettiamo play e vediamo qui tutto questo caos abbiamo bisogno che la scintilla sia in direzione di dove parte e non resti orizzontale quindi ci portiamo sul primo tab control e su rotation apriamo e andiamo a scrivere invece di absolute rotation rotation relative to motion cioè la rotazione come vedete ora è relativa al movimento e come vedete ora vedete che bello queste scintille che cadono e vanno verso il basso per limitare un po' l'effetto andiamo a mettere un numero di lifespan inferiore a 100 vedete lo andiamo a ridurre in questa maniera le particelle vivranno meno magari mettiamo 20 e invece per non farle tutte uguali mettiamo un lifespan variance magari anche questo lo accendiamo lo accendiamo facciamo alcune prove per vedere che così andiamo a limitare un po' le particelle possiamo anche regolare il number variance quindi non saranno tutte 100 ma andremo a cambiare ed ecco qua li abbiamo reso un po' più irregolari ora all'uscita del render andiamo a dare la luminosità come prima quindi shift bar spaziatrice e cercate soft glow ripetiamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima quindi cercate di dare un gain e un glow magari più basso per poi aggiungere sempre più soft glow e allargare questa zona di sfumatura vedete eccolo qua in questa operazione possiamo andare anche spegnere un canale per dare una colorazione multipla ad esempio se spegniamo blu vedete che verrà valorizzato il giallo quindi possiamo fare le somme colori se spegniamo il rosso resterà il ciano verde e blu e se spegniamo il verde resterà un lilla un viola sarebbe perché abbiamo rosso e blu e io proverò a lasciare solo il rosso ad esempio spegnendo verde e blu che mi crea questo effetto e così poi posso comunque andare a aggiungere un altro globe dopo e ottenere eccolo qua vedete come preferisco se più morbido o meno morbido questo effetto andiamo a portare queste particelle giù quindi le uniamo così all'uscita si creerà un merge con tutta l'animazione eccolo qua e qui sul merge possiamo mettere come apply mode potremo mettere screen che va a sommarsi e guardate ecco qua il nostro effetto finale guardate che bello adesso andiamo a vederlo sulla edit page questa scelta dei colori ovviamente deve essere tutta abbinata e quindi è importante sceglierle bene andiamo sulla edit potete impostare un playback render cache ad esempio smart così verrà calcolato e verrete l'animazione in tempo reale bene quindi mettiamo in play e godiamoci questo spettacolo di animazione avete visto la durata è importante per far uscire tutte le particelle dallo schermo altrimenti basterà allungare un po' la fusion composition per avere tutte le particelle che escono inoltre qua la cosa bella è che se torniamo alla nostra programmazione e cambiamo in media potremo avere completamente un'altra animazione ad esempio vado a mettere un testo lo vado a inserire e vado a scrivere titolo per esempio qua non servirebbe più resize però adesso per evitare faccio così e vedete che avremo la nostra scritta titolo e pian pianino avremo l'effetto su tutte le lettere guardate che meraviglia quindi vi basterà cambiare in ingresso qui con la vostra immagine png e appunto il vostro tromidia che a questo punto potrebbe essere anche un video con una trasparenza molto bello oppure lo stesso logo che può essere anche ruotato perché l'animazione può avvenire anche mentre spostate facciamo un esempio metto un transform se vado a ruotare il logo vedete facciamo la prova su angolo vado a ruotarlo mentre la maschera procede e guardate è qualcosa di meraviglioso benissimo io darò questa programmazione agli abbonati come al solito quindi magari andremo a inserire qui una cosa neutra perché non vi posso passare il media e poi qui attaccherete il vostro logo magari metterò delle note io spero che questa animazione vi sia piaciuta quindi mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella se volete cliccare anche un grazie e donarmi qualcosa ve ne sarò riconoscente ci vediamo alla prossima trasmissione tutorial recensione ciao ciao